Una buona serata e ben ritrovati per l'edizione della sera del nostro telegiornale in apertura la cronaca. I furbetti del cartellino non si trovano solamente nei comuni italiani ma addirittura anche nelle asle. I carabinieri di Caserta hanno posto agli arresti domiciliari sette esponenti dell'autorità sanitaria locale, coinvolto anche una consigliere comunale. Il servizio. Adesso copiamoci delle condizioni di salute dell'ex premier Berlusconi perché mercoledì si è tenuta una conferenza stampa dei medici per aggiornare la situazione inerente il quadro clinico. Infatti i medici hanno detto che l'ex premier è lucido ed in ottime condizioni. Lo ha riprito il suo medico personale Alberto Zangrillo. Tra l'altro è tornato come al solito a fare le battute di sempre. Per l'altro medico il dottor Alfieri dal punto di vista del cuore eseguito questo intervento abbiamo eliminato quello che rappresentava il peso emodinamico dell'anomalia. Ricordiamo che a Berlusconi gli è stata sostituita la valvola aortica. Certamente va tenuto conto dell'età e al momento non possiamo dire di dare a Berlusconi nell'ordine di non fare politica. Presso l'Istituto di istruzioni secondaria superiore Augusto Righi di Cerignò la conferenza stampa per la presentazione del convegno finale del progetto Erasmus Plus B Act Live partnership insieme con quattro paesi europei. Ci spostiamo adesso a San Giovanni Rotondo perché è venerdì 17 e sabato 18 presso l'auditorio mandato a casa sollivo della sofferenza. Ci sarà un convegno di genetica medica dal titolo alla genetica dalla ricerca alla pratica. La clinica vedrà alternarsi colleghi medici e biologi che hanno lavorato per oltre 40 anni di servizio con Leopoldo Zelante che è stato per molti anni medico responsabile di unità genetica che è morto un anno fa. Tra l'altro diceva sempre che il genetista ha compito istituzionale della presa in carico del soggetto ammalato e della sua famiglia per un percorso sia di terapia che di assistenza e che abbia come obiettivo l'inserimento della normalità del soggetto con diventi congeniti. Adesso parliamo dei europei di calcio e in corso mentre andiamo in onda la partita del girone A tra Albania e Svizzera. Il punteggio lo vedete in sovra in posione sul nostro banner. Nella prima partita invece delle 15 e di oggi importante successo della Slovacchia contro la Russia per 2 a 1 russi che come sapete rischiano l'esclusione a causa dei loro tifosi. Intanto ieri ci sono state delle sorprese inimportanti, le vittorie di Ungheria e il pareggio sorprendente del Portogallo. In servizio. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione domani con la prima edizione alle 9. A tutti un buon proseguimento di serata. Grazie per essere stati con la nostra informazione domani con la nostra informazione domani con la nostra informazione domani.